Se ricordate la donna che ha partorito a 70 anni, potreste chiedervi dove sia adesso. Incredibilmente, ciò che è successo dopo il parto è ancora più scioccante, perché dopo aver riunito un'intera città, si è concluso con una tragica morte. Quando Raju Devilohan rimase incinta a metà del 2008, i locali rimasero scioccati. A 70 anni era una delle donne più anziane ad essere mai rimasta incinta. In tutto il mondo, Raju divenne presto una sorta di attrazione spirituale. Con persone che viaggiavano da lontano per vedere ciò che poteva essere descritto solo come un miracolo. Raju e suo marito Babaram avevano aspettato oltre 40 anni per avere un figlio. Vivendo ad Alewa, un villaggio tradizionale nel nord dell'India, la coppia aveva sopportato anni di pressioni da parte dei loro vicini a causa del loro nido sempre vuoto. Alcuni li esortavano a separarsi, dicendo loro che se Raju non fosse rimasta incinta a un'età così avanzata, significava che Dio non voleva che fossero insieme. La coppia perseverò, guidata dal loro amore e dedizione reciproca. Cercarono cure mediche alternative, visitarono templi, tutto ciò che potesse aiutarli a concepire. E alla fine, la loro fede venne ripagata quando Raju non solo rimase incinta, ma diede alla luce una bambina sana, Naven Lohan, nove mesi dopo. Ma ciò non fermò una valanga di critiche, questa volta provenienti da tutto il mondo. La loro storia era diventata virale, facendo notizie internazionali e suscitando l'interesse di milioni di persone, con alcuni che sostenevano che fosse irresponsabile accogliere un bambino a un'età così avanzata. Quanto ancora avrebbe vissuto, Raju, si chiedevano, e non senza motivo. La nascita stessa non fu affatto semplice, ma questa amorevole madre ce l'ha fatta. I critici erano scettici, ma in seguito ha dichiarato che nei pochi anni successivi alla nascita di Naven si sentiva spinta da un impegno a vivere abbastanza a lungo da vedere sua figlia crescere e sposarsi. Secondo Raju, sua figlia era quella che le dava forza. Ma la strada non è stata facile. Innanzitutto c'era il villaggio. Erano stati contrari alla gravidanza fin dall'inizio e non sarebbe stato facile conquistarli. Volci e pettegolezzi continuavano a circolare nella città. Uno dei punti più discussi era che Raju e Babaram avevano messo tutte le uova in un solo cesto, solo per avere una bambina. In India avere una bambina può essere considerato un peso, ci sono molte spese da considerare e una mancanza di opportunità lavorative. Ma uno per uno, mentre le persone del villaggio venivano a visitare la piccola Naven, tutte quelle preoccupazioni svanivano. Non si poteva negare quanto fosse bella. I suoi grandi occhi marroni fissavano intensamente le persone con una dolcezza che non poteva essere simulata. Questa sarebbe stata una bellissima bambina. E prima ancora che passasse troppo tempo, i villaggi si contendevano il privilegio di tenerla in braccio. Molti ebbero l'opportunità di farlo per molto tempo, perché tragicamente Raju era ancora in ospedale lottando per la sua vita. La gravidanza non era andata così liscia come tutti speravano. Ci furono alcune complicazioni e Naven venne consegnata tramite cesario per ridurre al minimo i rischi per la madre. Raju era sopravvissuta, ma le malattie correlate alla gravidanza, che ora erano radicate nel suo corpo, non scomparvero con la nascita. Non c'era modo di aiutarla all'interno dell'ospedale, quindi fu mandata a casa per riprendersi con il sostegno della famiglia. Raju era costretta a letto, aveva difficoltà a muoversi e si sentiva completamente debilitata. Tuttavia, il suo medico non si arrese e la considerò la sua priorità assoluta. Ogni giorno si regava a casa della loro famiglia, consegnando medicini e facendo un controllo sul raggio. Questo medico l'aveva accompagnata durante tutta la gravidanza. Conosceva sia Raju che Babaran fin da giovani e li ammirava sempre. Erano gli anziani della comunità, nonostante non avessero figli. E sapendo quanto entrambi avessero dato a tutti gli altri, questo medico voleva restituire loro o quanto più possibile. Ma non è tutto. Una gravidanza normale era stata esclusa alla loro età, il che significava che la coppia era stata costretta a esplorare alternative. La più promettente era stata una tecnica di fecondazione in vitro, ma era costosa. Avevano dovuto fare un prestito bancario solo per pagare l'anticipo. Tuttavia non era ancora sufficiente. Con crescenti spese mediche, il medico era intervenuto e aveva contribuito, pagando di tasca propria per un altro tentativo. Alla fine, la FIVA era riuscita a far rimanere incinta Raju. Purtroppo, però, le visite di questo medico non sarebbero durate per sempre. Un pomeriggio, un paio di mesi dopo la nascita di Naveen, fece visita a Raju e qualcosa sembrava fuori posto. Sudava dalla fronte, aveva il viso arrossato e gli occhi mostravano una profonda stanchezza. Rassicurando la nuova madre che stava bene, le ripete esattamente come doveva prendersi cura di se stessa. Raju era la sua migliore paziente perché era di spirito forte e determinata, ma in molti modi era anche la sua peggiore paziente. Anche quando il suo corpo era debole, voleva essere in piedi, occupata con i lavori domestici e a prendersi cura della sua famiglia. In questa particolare visita, però, c'era qualcosa di molto sincero e serio nel suo medico, che la fece ascoltare. Ricordò di aver preso a cuore le sue parole e a posteriori era estremamente felice di averlo fatto. Il giorno successivo, infatti, giunse la notizia che il medico era deceduto. Dopo essere tornato a casa dopo la visita, aveva avuto una mancanza di respiro e un arresto cardiaco. Sua moglie aveva chiamato un'ambulanza, ma ormai era troppo tardi. Non era nemmeno riuscito ad arrivare in ospedale. Raju e la sua famiglia erano sconvolti. Quell'uomo aveva investito fisicamente, emotivamente e finanziariamente nella nascita di Naveen. Tutto ciò che voleva era che vivessero tutti il più a lungo possibile. E ora Raju, la sua paziente, gli era sopravvissuto. In qualche modo non sembrava giusto. Questo diede a Raju una nuova determinazione nel mantenere la sua salute. Non solo per la sua famiglia, ma in memoria di questo grande medico a cui doveva tutto. Ciò non significava che Raju potesse fermare il deterioramento del suo corpo che invecchiava. Dopo la morte del medico, si è sottoposta a due interventi chirurgici, entrambi legati all'intestino. Questo non era insolito per un paziente di quasi 77 anni. Normalmente Raju non avrebbe ascoltato, ma prendendo sul serio le parole del suo defunto medico. Si stava riposando il più possibile. Costretta a letto per almeno otto ore al giorno, Raju si annoiava rapidamente. Era impegnata a riposare, ma voleva essere là fuori a fare la differenza. Qual era il senso di vivere se non poteva interagire con sua figlia? E inoltre, nonostante il riposo, appariva sempre più debole, di giorno in giorno. E nelle sue parole si rifletteva una debole fiamma di rassegnazione. Raju iniziava a parlare di cosa sarebbe successo dopo la sua morte. Era fiduciosa che sua sorella, Umi, si sarebbe presa cura di sua figlia. Per tutti gli scopi e gli effetti, Umi era già la matrigna di Naveen. E questo non era tutto. Aveva anche redatto un testamento. Dopo una lunga battaglia legale per la sua stessa eredità, Raju aveva finalmente ottenuto più di 500.000 piedi quadrati di terreno, e sapeva avrebbero contribuito ad assicurare il futuro finanziario di Naveen. Sua figlia poteva avere molte sfide davanti a sé, ma lei non voleva che trovare un rifugio fosse una di esse. Mettendo in fila tutti questi piani futuri, segnalò alla sua comunità che si stava preparando alla fine della vita. Iniziarono a farle visita salutando con timidezza. Un primo pomeriggio, però, alla fine della giornata scolastica di Naveen, ebbe una sorpresa. La ragazza aveva ora sette anni, studiava nella seconda classe, e nonostante i problemi di salute della vivendo un'infanzia abbastanza normale. Ma mentre usciva dal retro del cancello della scuola, scrutando i volti dei genitori, dei suoi compagni di classe, desiderò che i suoi genitori potessero venire a prenderla come gli altri. Di solito questo compito aspettava i suoi cugini più grandi o alla sua matrigna, ma un volto si distinse per lei. Era una donna molto più anziana, appoggiata alla recinzione. Solo quando Naveen si avvicinò chi si accorse che era sua madre. Non l'aveva mai vista all'uscita della scuola prima, soprattutto perché avrebbe dovuto riposare in quel momento. Naveen corse tra le braccia della madre, emettendo un grido di gioia. Ragio abbracciò sua figlia con tutto il suo corpo, stringendola con tutte le sue forze e posando la guancia sui morbidi capelli castani di Naveen. I genitori che li circondavano furono commossi dal momento, consapevoli di quanto fosse speciale. Ragio potrebbe non essere una madre convenzionale e potrebbe avere molti svantaggi alla sua età. Ma una cosa è certa, lei ama sua figlia più di chiunque altro. Fino ad oggi Ragio è ancora viva e sulla buona strada per mantenere la sua promessa. Vuole vedere Naveen sposarsi e, data la sua determinazione, potrebbe anche riuscirci. Che storia incredibile! Pensereste mai di avere un figlio a 70 anni? Ditecelo nei commenti. Dite!